La provincia di Imperia ha a disposizione un milione e mezzo di euro per sistemare le strade. Il presidente Fabio Natta, nel dare la notizia, ha spiegato che verranno messi in atto interventi per mitigare situazioni che potrebbero presto peggiorare, rendendo impraticabili alcune vie di collegamento. Presidente Natta, finalmente una notizia positiva per le strade della provincia di Imperia, che sono tante e bisognose di interventi. Una delibera in unanimità del Consiglio provinciale, uno stanziamento. Sì, oltre un milione e mezzo in arrivo dal governo, è stata una battaglia fatta anche in sede nazionale con l'Unione Provincia d'Italia. Le tre province liguri si vedono assegnate delle somme importanti per la manutenzione straordinaria delle strade. Nelle casse della provincia di Imperia sono arrivati oltre un milione e mezzo negli scorsi giorni. Abbiamo provveduto immediatamente a convocare un Consiglio provinciale in una situazione di bilancio molto particolare, perché noi per i noti problemi economico-finanziali non siamo in grado in questo momento di chiudere il bilancio. Abbiamo dovuto utilizzare lo strumento di una delibera consigliare, vistata dal Collegio dei Revisori, per utilizzare immediatamente queste somme. Il territorio della nostra provincia ha bisogno di interventi immediati e credo che con questa delibera, assunta all'unanimità, con un impegno forte da parte dell'amministrazione provinciale, grazie a questi fondi, oltre un milione e mezzo, lo ricordo, che sono arrivati dal governo, di poter intervenire da subito sulle nostre strade per eliminare e risolvere le criticità più evidenti. Ci sono delle situazioni più a rischio di altre, più emergenziari, diciamo? La situazione delle strade è una situazione critica a livello complessivo. Noi, due anni fa, grazie a una politica di alienazione immobiliare, siamo riusciti a chiudere il bilancio con un attivo e poter impegnare dei soldi per fare gli asfalti. Erano sette anni che non si facevano gli asfalti nella provincia d'Imperia. Abbiamo delle situazioni a macchia di leopardo, dove se si interviene subito, si possono evitare e scongiurare danni ulteriori, perché la pulizia straordinaria delle cunette, dei tombini, piuttosto che delle micro asfaltature o parziali asfaltature della rete viaria possono evitare un domani, in caso di eventi meteorologici imprevisti, che purtroppo sono sempre più frequenti nel nostro territorio, l'aggravarsi di situazioni che magari oggi sono critiche fino a un certo punto, ma che potrebbero diventare molto, ma molto critiche. Quindi saranno interventi mirati sul territorio, chiaramente non si può intervenire ovunque, ci saranno delle priorità. C'è una regia da parte dell'ufficio strade su questo argomento, quindi progetti pronti e cerchiamo di intervenire al più presto possibile per sanare più situazioni possibili e soprattutto prevenire. L'ottica della prevenzione è fondamentale e importante. Sulla vicenda Rai Nantes si muove anche la politica. Giuseppe Fossati di Imperia Riparte e Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune chiedono di approfondire la situazione e probabilmente sarà convocata una commissione a metà ottobre il servizio. Sulla vicenda Rai Nantes si muove a grandi passi anche la politica. Giuseppe Fossati di Imperia Riparte, ma anche Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune chiedono di approfondire meglio la situazione e presto sarà convocata una commissione. Come noto, Rai Nantes, a seguito di problemi economici, ha dovuto rinunciare ai campionati di massima serie, sia nella pallanuoto maschile che in quella femminile. Si rincorrono inoltre voci circa l'accumulo di una pesante situazione debitoria connessa alla gestione generale dell'impianto e non solo al settore sportivo. Questo nonostante Rai Nantes goda di un contributo di 350 mila euro all'anno da parte del Comune, proprio a sostegno della gestione della piscina Cascione. Il sindaco di Andorra, Mauro De Micheli, scondanna l'operato di Riviera Acqua nella gestione della rete idrica andorese. Se la società non è in grado di gestire, afferma, si faccia da parte per il bene dei cittadini. Sentiamo. Il modo con cui oggi Riviera Acqua gestisce la rete idrica andorese è semplicemente imbarazzante. Il sindaco Mauro De Micheli scondanna la società che gestisce acquedotto e fognature, anche se i recenti breakout idrici nel Golfo dianese hanno risparmiato il compressore andorese. Ma situazioni gravi si sono verificate anche nel suo comune. Da ricordare, ad esempio, l'ordinanza è messa a ridosso di Ferragosto per lo sversamento in mare di Liquami. La città di Andorra, in questa vicenda, sottolinea apertamente il sindaco e parte l'ESA. I danni al nostro territorio e alla nostra comunità, che si basa sul turismo, sono stati notevoli anche d'immagine. A due anni dall'affidamento del servizio a Riviera Acqua non possiamo certamente ritenerci contenti. Siamo irritati. Il tempo dell'apprendimento è finito. Se la società non è in grado di gestire, si faccia da parte per il bene dei cittadini andoresi. Concetti che De Micheli ha rispolverato anche nel recente Consiglio Comunale. Non ne facciamo un mistero. Riviera Acqua starà volando male, ma i cittadini lo devono sapere. Oggi i nostri tecnici comunali non hanno neppure le chiavi per aprire i tombini e controllare perdite o guasti. A me non resta altro da fare che scrivere e denunciare situazioni incresciose alla società imperiese, ogni qual volta che si presenta un problema. Otto anni dopo le clamorose indagini condotte dalla Guardia di Finanza, il processo relativo alle discariche abusive a Pieve di Teco e a Ponte d'Assio è giunto al Capolinea. L'unico imputato rimasto, infatti, Marco Savini, è stato assolto. Sentiamo. Otto anni dopo le clamorose indagini condotte dalla Guardia di Finanza, il processo relativo alle discariche di inerti in Valle Arrosce è arrivato al Capolinea. L'unico imputato è rimasto Marco Savini. L'ultimo tecnico ad aver assunto un ruolo di responsabile per la Ecoterra SRL finita sotto la lente della Procura è stato assolto dal Collegio del Tribunale di Imperia per non aver commesso il fatto. Il PM Alessandro Bogliola aveva chiesto una condanna a 14 mesi di reclusione per truffa e falso. Savini, oggi presente in aula, ha sempre sostenuto che il suo incarico non prevedeva alcun tipo di controllo sul riciclo del materiale. Inoltre, che non dipendevano da lui le decisioni in merito al calcolo e al pagamento dell'ecotassa. Savini ha anche sostenuto di non aver mai percepito compensi. La storia è quella delle discariche abusive scoperte dalla Guardia di Finanza nel 2009. Una individuata in località Uveghi a Pieve di Teco appena sotto il cavalcavia della Statale 28, l'altra in zona Santa Lucia a Ponte d'Assio. Era stato calcolato che almeno 100.000 tonnellate di materiale era stato scaricato senza alcuna autorizzazione nei due siti. Le fiamme gialle avevano effettuato anche diverse perquisizioni negli uffici comunali di Pieve di Teco e Ponte d'Assio, oltre che nella sede della provincia. I due siti nel frattempo erano stati bonificati e questo è il risultato forse più importante conseguito all'inquesta. Altre due pecore uccise dai lupi nelle alture di tavole in Valprino. Lo ha comunicato il sindaco di Pelà, Eliano Brizio, che è anche un allevatore. Una pecora era di proprietà dello stesso Brizio e l'altra di un altro pastore. Sono oltre 90 le pecore uccise dai lupi nella zona negli ultimi mesi. Il sindaco chiede un intervento delle istituzioni perché si cerchi di catturare questi animali e limitare i danni per gli allevatori. E cambiamo argomento. Franco Floris è stato nominato presidente nazionale di Accademia Kronos, un organismo impegnato nella salvaguardia dell'ambiente. Sentiamo. Dieci anni da amministratore in comune ad Andorra come assessore, poi vice sindaco e sindaco. Due anni da presidente di Area 24 fino dopo l'organizzazione della prima tappa del Giro d'Italia sulla pista ciclabile del Ponente e tre anni e mezzo da amministratore delegato di sviluppo Genova S.P.A. A Franco Floris è stato affidato un ruolo ancora più prestigioso. Da pochi giorni è presidente nazionale di Accademia Kronos, un organismo fortemente impegnato nella salvaguardia dell'ambiente. Floris ha accettato questo nuovo ruolo con soddisfazione e orgoglio. Si tratta di un incarico molto importante, ha affermato, con grandi responsabilità, a cui ho risposto sì dopo un'attenta riflessione. Farò tutto quello che è possibile fare per salvaguardare l'ambiente. L'economia circolare sarà il tema prioritario da affrontare. I rifiuti sono una ricchezza infinita che, se sfruttati adeguatamente, ci consentirebbero di utilizzare solo un decimo delle materie prime. Già dai fondatori dell'associazione ora guiderà tutto lo staff centrale, che sarà corredato da forze nuove e piene d'entusiasmo. Tante le campagne avviate dalla direzione centrale di Accademia Kronos, il Bosco di Chioto, la campagna contro la plastica nel Mediterraneo, la battaglia contro le trivelazioni, ma soprattutto la salvaguardia per i cetacei che vivono nel triangolo dell'Alto Tirreno. Andorra è stato il primo comune in Italia ad aderire al patto dei sindaci, il primo comune a siglare l'accordo con Pelagos, con le Capitanerie di Porto e il Ministero dell'Ambiente. E con Accademia Kronos è stato appena stretto un importante accordo con i carabinieri forestali per un migliore controllo del territorio, con le guardie zoofile e ambientali. Terzo trimestre positivo per il Casinò di Sanremo, che chiude a quota 34,7 milioni di euro, i particolari in un servizio. Campeggia il segno positivo per gli incassi del terzo trimestre dell'anno. Eventi, gala, tornei di poker, hanno contraddistinto l'estate e il mese di settembre, che si è concluso con la nuovissima gara di roulette francese. Puntiamo su di te. E questo è il quadro che ha caratterizzato l'importante periodo per il Casinò di Sanremo, che chiude il terzo trimestre dell'anno a quota 34,7 milioni di euro, con una crescita percentuale dell'1%. Incremento degli introiti, che aumenta in maniera importante, esulando dai conteggi il settore poker, rimasto fermo per motivi strategici da maggio a luglio e che a partire dai mesi di agosto e settembre sta cercando di recuperare il tempo perduto. Al netto del poker, quindi, l'azienda è cresciuta del 2,40%, mentre il gioco lavorato di 7 milioni in nove mesi ha consolidato un incremento percentuale del 7,50%. Tra questi si evidenzia il risultato lusinghiero dei giochi americani, che nei primi nove mesi dell'anno hanno segnato un aumento del 14,8%, seguito dalla roulette francese, che ha superato del 2,07% i già buoni livelli di crescita dello stesso periodo del 2016. Dall'inizio dell'anno il business elettronico ha totalizzato 26,7 milioni, ottenendo una crescita dell'1,2% rispetto ai primi nove mesi del 2016. Continua quindi la buona performance annuale del casino, a cui ha collaborato anche l'introito di settembre 2017, in aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il bilancio del mese evidenzia il gradimento sia del gioco lavorato sia del settore slot rafforzato nella sua offerta di gioco dalle 98 nuove slot di ultima generazione installate nel periodo estivo. Ha riscontrato un forte aumento del volume di gioco, ma anche delle vincite erogate. A settembre sono stati infatti 54 i super jackpot centrati del valore superiore a 4.999 euro, che hanno raggiunto moltissimi turisti italiani e stranieri per un monte premi complessivo di 543.000 euro. Anche i tornei di poker stanno riportando l'attenzione dei tanti players verso la Poker Room Sanremese. Desta sempre grande interesse e partecipazione il gioco online, che si è conquistato il suo spazio in game sul web, rafforzato dalla sicurezza del gioco e dei pagamenti. Ci fermiamo solo un istante, restate con noi, a tra poco. Dal 9 al 15 ottobre si terranno a Genova e Savona i giochi paralimpici giovanili europei. Secondo il governatore Toti, sono un modo anche per evidenziare l'importanza dello sport in termini di welfare e inclusione sociale. Sentiamo. Sarà una settimana importante per la Liguria, sarà una settimana importante per Genova e Savona che li ospitano. Sicuramente un bel momento di sport, ma io credo che il messaggio principale sia il messaggio che daranno i ragazzi, gli atleti, che ogni sfida con impegno può essere vinta e quanto è importante lo sport in termini di welfare, di inclusione sociale, di fare squadra, molto banalmente, per migliorare le condizioni di vita di tutto il paese nostro e dei singoli con questo. Quindi credo che sarà un grande momento, che ospitiamo con grande orgoglio e anche un po' di emozione aspettandoci una settimana di gare belle e impegnative, ma soprattutto una grande settimana di solidarietà e di sport. Io credo che la presentazione di oggi sia il frutto di un grande gioco di squadra. Le istituzioni sono presenti e hanno lavorato insieme, quindi Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Savona. Alla base della nostra partecipazione a questo sostegno ai giochi paralimpici, che è stato un sostegno importante anche dal punto di vista finanziario per Regione Liguria, c'è un accordo di programma, che è un accordo fatto con gli altri comuni. Senza gli altri comuni non saremmo qui oggi e quindi credo che far vedere il gioco di squadra quando si parla di sport sia importante, tanto più se si parla poi di sport, che non è soltanto sport, ma che ovviamente diventa un momento per dare messaggi e per far capire che si possono accettare anche sfide alte, che sono quelle che faranno gli atleti paralimpici che arriveranno a Genova dal 9 al 15 ottobre. Genova e Liguria capitale della sfida, del pensare in grande e dell'accettare anche sfide alte e sfide importanti. Credo che il momento bello sarà quello dell'incontro tra i giovani atleti che arriveranno con i nostri studenti, con i studenti Liguri e quindi questa fusione credo che sia sicuramente un bel momento di integrazione. Credo che dalla presentazione di oggi e dalle parole di tutti i presidenti che sono intervenuti, dal presidente Pancalli in primis, ma da tutti coloro che sono intervenuti, il messaggio è quello dell'importanza della integrazione, dello sport come valore di integrazione e della sfida vera che queste giornate avranno, che non saranno giornate di compassione ma di comprensione, come ha detto giustamente Pancalli. Ma perché lo siano a pieno poi bisogna andare avanti anche con le azioni amministrative, quindi è bello l'evento, è bella l'accoglienza, è bello esserci, è bello dare segnali, poi però bisogna avere anche delle iniziative concrete. Io penso di poter dire anche con gioia oggi che il percorso fatto insieme al Comitato Paralimpico non è stato soltanto per organizzare gli EPIG, ma è stato anche per elaborare dei bandi che venissero incontro al mondo sportivo che assiste gli atleti disabili e poter dire che l'ultimo bando che abbiamo fatto a Sportello come Regione Liguria con 500 mila euro di fondo rotativo stanziati da questa giunta regionale per le società direttantistiche è andato a buon fine perché abbiamo avuto di fatto pari richieste rispetto a quello che il fondo ha messo a disposizione. Vuol dire che abbiamo visto giusto ma perché ci abbiamo visto insieme, perché abbiamo ragionato col Comitato Paralimpico e tutte le domande arrivate saranno di fatto esaudite. Ovviamente salvo una fase istruttoria di legittimità degli atti, però credo che sia un segnale importante perché questo vuol dire che tutti gli interventi di abbattimento delle barriere negli centri sportivi verranno fatti. Qui stiamo parlando di abbattimento delle barriere in senso lato, le barriere fisiche, le barriere architettoniche degli impianti sportivi, le barriere concentuali per le quali ovviamente questi giochi paralimpici saranno una tappa fondamentale. Domani si celebra in tutta Italia San Francesco d'Assisi. I comuni della Liguria contribuiranno con la donazione della fornitura di olio d'oliva per alimentare la lampada votiva che arde sulla tomba del Santo. Sentiamo. Domani 4 ottobre si celebra in tutta Italia San Francesco d'Assisi, conosciuto anche come il poverello d'Assisi. Diacono e fondatore dell'ordine che da lui prese il nome, è venerato come santo e proprio domani ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa Cattolica. Assieme a Santa Caterina d'Assiena è patrono d'Italia per volere di Papa Pio XII. La Liguria quest'anno lo festeggerà in modo speciale aderendo alle celebrazioni con l'iniziativa lampada votiva dei comuni d'Italia. I comuni della Liguria, confermatisi recentemente come la prima regione italiana per numero di città dell'olio, contribuiranno con la donazione della fornitura di olio d'oliva per alimentare la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco. La tomba del Santo è infatti una meta di pellegrinaggio per centinaia di migliaia di devoti, pellegrini e ammiratori ogni anno. Per il comune di Imperia, delegata dal sindaco Capacci, sarà presente l'assessore all'agricoltura Maria Teresa Parodi, che porterà con sé l'olio donato dalle aziende del comune di Imperia. Domani tutte le autorità si incontreranno nel palazzo del comune di Assisi per lo schieramento dei gonfaloni dei comuni. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti incontrerà il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti per lo scambio dei doni. L'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri Onlus di Imperia, ha organizzato un corso di formazione per volontari totalmente gratuito che inizierà lunedì 9 ottobre. Vediamo. L'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri Onlus di Imperia, anche quest'anno ha organizzato un corso di formazione per volontari. Il corso totalmente gratuito inizierà lunedì 9 ottobre e terminerà venerdì 27 ottobre con nove incontri che si terranno tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19, presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Imperia. Le iscrizioni sono già cominciate presso la Segreteria dell'Associazione nel latio dell'Ospedale di Imperia, ma chi vorrà aderire all'attività solidale potrà presentarsi direttamente nell'Aula Magna lunedì 9 ottobre alle 17 e iscriversi in occasione del primo incontro. L'Associazione Volontari Ospedalieri da più di 30 anni gratuitamente cerca di alleviare disagi e sofferenze di malati anziani presso ospedali e case di riposo. Ad Imperia sono attivi nell'ospedale, nella casa di riposo di Viagnesi e nella residenza protetta di Pieve di Teco. Dal 2 ottobre le quattro pagine Facebook dell'Inps, Inps per la famiglia, Inps credito e welfare dipendenti pubblici, Inps giovani, Inps per i lavoratori migranti, riportano un badge grigio che attesta che si tratta di una pagina autentica e ufficiale e che ciò che vi è comunicato proviene da Inps e a valore istituzionale. Questo perché è stata appurata l'esistenza di circa 50 pagine Facebook che contengono informazioni non vere e diffondono notizie prive di fondamento riguardo l'Inps. Oltre al badge che garantisce l'affidabilità e l'autorevolezza delle quattro pagine Facebook ufficiali, per essere sicuri di essere sulle pagine istituzionali, è sempre possibile accedere alla home page del sito www.inps.it. È stato inaugurato lo spazio all'interno dell'area Italy Loves Food, la food lounge dell'aeroporto di Bergamo Oriol Serio, dedicato alla promozione e alla valorizzazione turistica ed enogastronomica della provincia di Cuneo. Vediamo. La grande e protagonista dell'aeroporto di Bergamo Oriol Serio è stato infatti inaugurato all'interno dell'area Italy Loves Food, il lounge food dello Scalo Lombardo, uno spazio dedicato alla promozione e alla valorizzazione turistica ed enogastronomica della provincia di Cuneo. Il progetto Made in Cuneo di durata quadriennale prevede l'allestimento di uno spazio vetrina e punto informativo nei pressi dei gate d'imbarco. L'obiettivo è la promozione delle eccellenze del territorio cunese con lo scopo di intercettare i passeggeri e i turisti che possano facilmente raggiungere la provincia grande. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Turismo Almed, Regione Piemonte e ATL Langeroero e ATL del Cunese. In uno spazio espositivo di degustazione e vendita di circa 100 metri quadrati verranno presentati prodotti che caratterizzano l'enogastronomia della provincia di Cuneo, dai grandi vini di Langa e Roero ai prodotti dolciari alle confetture e composte. L'area è dotata inoltre di una cucina dove vengono somministrati piatti preparati con i prodotti tipici del territorio, di un punto di informazione turistica e di una sala per presentazioni, incontri e eventi. Abbiamo sempre di più la consapevolezza che le cose che noi produciamo, la terra che noi viviamo è un'eccellenza assoluta all'interno del nostro paese, all'interno di un contesto ancora più grande che è la stessa Europa che trova qui in Ori al Serio uno dei suoi punti di riferimento strategici più importanti. L'abbinamento Cuneo-Bergamo ha tanti valori, sono due terre di provincia che guardano le Alpi con grande attenzione, che gli stanno alle spalle, una terra generosa di grande imprenditoria e di eccellenze che trovano a casa nostra e a casa loro anche nell'agroalimentare uno dei momenti salienti, io credo, della loro proposta. Oggi c'è la consapevolezza che presentiamo delle vetrine importanti, dovremmo valorizzare sempre di più i prodotti e i luoghi che possiamo offrire. È una grande responsabilità, però sappiamo che le persone che visiteranno il nostro tende e vedranno il nostro paesaggio non potranno far altro che venire a trovarci. Abbiamo anche iniziato a coinvolgere i consorsi vari, sono tanti in provincia di Cuneo e ognuno ha qualcosa da proporre. In questi quattro anni daremo la possibilità a tutti di essere presenti, di essere protagonisti. In una idea nuova non è presente una singola azienda, è presente un territorio che insieme alle sue istituzioni si presenta al meglio in un grande aeroporto. Una collaborazione che salutiamo con molto piacere e ci auguriamo che questa iniziativa abbia il successo che merita. Abbiamo aperto questa porta che secondo me nel tempo dovrebbe produrre quello che è un rapporto operativo decisamente più determinato e più concreto. Torna a Montegrosso Pianlatte il tradizionale appuntamento con la festa della Castagna il 6, 7 e 8 ottobre. Tanti gli eventi da non perdere. Sentiamo il presidente della Proloco, Graziano Viazzo. Viazzo, 6, 7 e 8 ottobre, torna la festa della Castagna, 48esima edizione, un programma ricco come sempre. Sì, torna a Montegrosso Pianlatte la 48esima edizione della festa della Castagna e si svolgerà appunto nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017. Il programma prevede il venerdì la giornata è dedicata alle scolaresche e quindi accoglieremo in paese tutti i bambini provenienti dalle scuole delle province di Imperia e di Savona e li accompagneremo in un percorso didattico all'interno delle vie del nostro borgo, anche attraversando attraverso momenti di laboratorio vero e proprio concreto. Il sabato invece è una giornata un po' di riposo, di tranquillità e dedicata soprattutto agli abitanti di Montegrosso Pianlatte che spendono tanto tempo e tante energie per la realizzazione di tutti gli eventi e per il sostegno che ci danno durante tutto l'anno e il gruppo musicale I Monelli di Montegrosso Pianlatte allietterà una serata in allegria proprio nel paese. Invece la domenica, vero clou della festa, è prevista in mattinata all'apertura degli stand gastronomici intorno alle 11, mentre invece aprirà la festa al mercatino dell'artigianato che ormai da qualche anno fa appunto da corona la nostra festa. Alle ore 12 e 30 circa si potrà cominciare a tranzare nella nuova location allestita in Piazza Sagrato e con appunto l'insieme dei menu della cucina bianca e un menu un pochettino più tradizionale che erano separati nelle precedenti edizioni della festa, ma quest'anno per ragioni di sicurezza abbiamo dovuto mettere insieme e trasferire in un'altra postazione e poi il pomeriggio della festa sarà invece tutto un trionfo di allegria. Ci saranno tre band musicali che allietteranno le varie aie del paese, Salvatore Stella con il teatro dei mille colori che appunto intratterà i bambini con giochi e spettacoli di magia, i pompieri con pompieropoli che da qualche anno ormai ci fanno compagnia e di cui siamo orgogliosi e per questo anche ringraziamo e caldaroste, pan fritto, frittale di mele e quant'altro sia appunto inerente alla festa. Vi aspettiamo tutti a Montegrosso Pianlatte soprattutto domenica 8 ottobre, ma se volete venirci a visitare noi siamo lì tutti i giorni. Ha festeggiato 105 anni Terzilia Elvira Rebaudi, la nonnina di Ventimiglia, con un pranzo che ha riunito parenti e amici. Terzilia ha inoltre recitato a memoria una poesia da lei composta. Sentiamo. Ha festeggiato i 105 anni con un lauto pranzo in un ristorante Terzilia Elvira Rebaudi, la nonnina di Ventimiglia. Con lei il figlio Gigi Ferrara, professore di educazione fisica in pensione, i nipoti Diana e Massimo e altri parenti e amici di una vita. Nonna Terzilia ha compiuto 105 anni e ha riunito tutti alla sua tavola e con innata allegria ha contagiato i presenti. Oltre ad intrattenere gli ospiti con i suoi racconti di vita vissuta, Terzilia ha recitato a memoria una poesia da lei composta e dedicata al Monte Toraggio. Ciao Monte Toraggio, tutti lì davanti alle finestre della mia casa, Mattia, sito nel Borgantico, fatta Castello, da cui prende il nome, Castel Vittorio. Ti rivedo oggi dopo tanti anni e ti ritrovo maestro del grande come ti vedevo da bambina che ti è cresciuto davanti, perché sei bello anche se spogli di alberi brondoni, sei ricco di prati verdi in primavera, sei biondo come l'erba secca d'estate. Terza di tre sorelle, come ricorda il suo stesso nome, Terzilia nacque a Castel Vittorio il 2 ottobre del 1912. Nel suo paese nativo frequentò le scuole elementari, ma solo fino alla quarta, la quinta la fece a pigna. Dopo le scuole Terzilia trovò impiego in comune come contabile. Nel dopoguerra si trasferì a 20 miglia ed entrò nell'opera nazionale maternità e infanzia. La nonnina non rinuncia a nulla e per brindare ai 105 anni si è concessa anche un bicchierino di limoncello, oltre al vino, che alla sua tavola, un bicchiere al giorno non manca mai. A lei vanno i nostri migliori auguri. Uno sguardo adesso a Riviere 20 e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Grazie a tutti. Di seguito i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona, confine di Stato, direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietra Ligure e Albenga, chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal 2 ottobre all'8 ottobre. Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per manutenzione via Dotto Tufo dal 2 ottobre al 6 ottobre. Direzione Genova, carreggiata sud, tra Finale Ligure e Spotorno, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per sostituzione dei ventilatori nella Galleria Carpania dal 2 ottobre al 7 ottobre. Tra Albenga e Pietra Ligure, chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal 2 ottobre all'8 ottobre. Vediamo il quadrometeo dei prossimi giorni con Arpal Meteo Liguria. Domani, mercoledì 4 ottobre, una ripresa dell'alta pressione favorisce ampie schiarite dal mattino sul versante costiero, mentre i cieli si presentano molto nuvolosi sui versanti padani di Ponente, per effetto della ventilazione settentrionale. Seguono condizioni di nuvolosità variabile al pomeriggio, sia per il passaggio di velature, sia per la formazione di nubi basse sui rilievi, dove non si escludono isolati deboli scrosci. Umidità su valori medio-alti, venti al mattino tra deboli e moderati settentrionali a Ponente, deboli brezze altrove, poi ovunque deboli variabili o in regime di brezza. Mare in calo a poco mosso ovunque. Dopodomani, giovedì 5 ottobre, la formazione di un minimo a ridosso delle Alpi occidentali determina l'instaurarsi di un flusso umido meridionale sulla Liguria, che favorisce la formazione di diffusa nuvolosità marittimo-costiera, con possibili deboli precipitazioni sparse. Umidità su valori medio-alti, venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso al mattino, in aumento a mosso da Ponente nel pomeriggio, fino a Levante e in serata. Siamo giunti in chiusura. Io vi ricordo di consultare il nostro sito imperiatv.it e la nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.